Qui, Nate Hook, rispondi, Alpha. Alpha, mi ricevi? Night Hook, qui è anche della squadra Alpha. Diavolo, credevo vi avessero fatto fuori. Ho provato a... Sono al punto K2. Vi chiedo informazioni sull'estrazione. Nessuno può fare fuori Mr. Morgan, eh? Il punto di estrazione? Rilasci, rilasci, Mr. Morgan. Mi dirigo al cancello principale della centrale. Ti aspetto lì. Troppo. No! Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Una novità, ai piani alti vogliono disinfettare i raccorsini, quindi sbrinevi, non puoi dire attivare la roba. Oh! 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 No! Ah! ah 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 volevo incontrare mister morte